Buonasera, bentornati ad una nuova puntata di Antropos che continua ad occuparsi del nostro territorio. Ma se questa sera non parleremo in particolare di Torino, parleremo invece della regione Piemonte che si prepara al voto. Questa sera cercheremo di capire quale sarà lo scenario politico immaginario futuro della regione in un momento come questo, così difficile per il nostro territorio, ma per tutto il paese, per l'Italia. La direzione regionale del PD ha scelto il suo candidato per il centro-sinistra, si tratta di uno dei sindaci che è stato più amato in tutta Italia. Con lui cercheremo di capire questa sera in uno di questi ipotetici scenari quale tipo di sanità, di mobilità, di istruzione potrà essere immaginato sul nostro territorio di nuovo, ma soprattutto torneremo a mettere il fuoco su un argomento che noi seguiamo con grandissima attenzione, che è per esempio quello della sicurezza alimentare. Da 100 anni sul nostro territorio viene fatto un lavoro eccellente dall'Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Anche qui cercheremo di capire in questo ambito che cosa potrebbe fare la futura regione. Dicevamo che è stato uno dei sindaci più amati dagli italiani, è uno dei candidati più forti, ma da uomo saggio ovviamente dice che le lezioni sono tutte da giocare, sono una partita tutta aperta. Allora io voglio di queste tematiche di cui ho parlato parlare con i miei ospiti che saluto e ringrazio per essere qui. Voglio salutare Sergio Chiamparino che è appunto il nuovo candidato del centro-sinistra per la regione Piemonte e voglio ringraziare e salutare Maria Caramelli, direttrice dell'Istituto Zooprofilattico di cui parlavo. Bene, grazie Giorgio De Feria per il suo lavoro. Allora, torniamo oggi, abbiamo visto un lungo percorso su un territorio per cui è rimasto il sindaco praticamente. Ancora adesso, si dice, quando viene incontrato per strada, ancora adesso viene chiamato sindaco per il lavoro che è stato fatto allora. Un importante evento ha segnato quei due incarichi, ci sono stati le Olimpiadi, adesso siamo in procinto di collaborare con Milano per l'Expo, quindi ci sono dei parallelismi. Allora, io chiedo a Sergio Chiamparino che cosa ricorda, se si può sintetizzare, io mi rendo conto che sia difficilissimo, ma che cosa ricorda di più di quell'esperienza che ha fatto? Beh, naturalmente una l'ha già detta lei, le Olimpiadi, perché sono stati un po' il momento culminante, anche quella più, come dire, adrenalinica, perché era quella dove… Gli ci si giocava tutto. Ecco, cioè bastava sbagliare anche pochissimo, bastava anche un po' di sfiga, come si dice in inglese, nel senso che… Poi era anche il periodo del terrorismo quello, eh? Sì, ma soprattutto, sa, bastava che nevigasse nel momento sbagliato, in modo sbagliato, che potevano succedere, perché se veniva mezzo metro di neve in città, lei può mettere al lavoro tutto chi vuole, però sicuramente le cose sarebbero andate in modo diverso, invece anche la fortuna ci ha aiutato, abbiamo gestito credo bene l'evento e questo è stato il momento culminante. Poi, se devo dirle personalmente, l'altro momento molto importante, non solo per me, ma per i torinesi, credo sia stato quello dell'inaugurazione della metropolitana, perché sa, Torino è una cosa che si aspettava, se ne parlava dai tempi di Mussolini, più o meno, tant'è che via Roma è scavata sotto, perché già allora pensavano di farci una metropolitana, poi non se ne era più parlato, per ovvie ragioni, comunque era nell'epoca contemporanea, era almeno da 30-35 anni che se ne parlava, vederla che parte, funziona, praticamente tutta un'intera linea, anzi un'intera linea, così come era stata progettata, è stata una bella soddisfazione e credo sia una delle cose che hanno colpito di più anche i torinesi in positivo, per ridare anche quello… Ha cambiato tutto il sistema della mobilità… Ma poi si vede, se lei, diciamo, chiunque di noi sa come era prima Corso Francia, vede adesso, capisce le differenze, cosa può voler dire un sistema di trasporto pubblico efficiente, dal punto di vista, anche visto che parliamo di ambiente, della riduzione dell'impatto ambientale, perché se uno si ricorda Piazza Rivoli, Piazza Massaua, cioè tutta quell'asse della città ai tempi in cui non c'era metropolitana ed oggi la differenza la si tocca con mano, questo per dire… Poi più sul piano personale, naturalmente è stata per me una grande soddisfazione la sfilata degli alpini, perché credo… Lo ricordo, è stato un evento quasi di carattere nazionale, se ne hai parlato… Sì, e poi è stato personalmente molto gratificato, insomma… Io non mi ricordo i numeri, arrivarono… Sfilarono, io ne lo so dire esattamente perché gli alpini hanno una specie di contapassi, cioè sfilarono in circa 90 mila, quindi questo per dire anche i numeri gonfiati delle manifestazioni, perché se lei pensa che 90 mila persone hanno sfilato per più di 12 ore, lei si immagini quando si dice che c'è un milione di persone in piazza per quanto deve dividere per scoprire la verità, perché… Certo, io l'ho vissuto quel periodo, c'ero, mi ricordo tutto, funzionò tutto, però non ero dentro la macchina, non so che cosa sia successo dentro la macchina, funzionò tutto? Ma diciamo funzionò tutto ed è stato un esempio in cui si dimostra che se la pubblica amministrazione non si assume qualche rischio e non prende qualche decisione, se segue pedissequamente le procedure non fa nulla o non corrisponde comunque agli obiettivi quando i tempi stringono. Le faccio un esempio concreto, allo stadio comunale, come lei forse si ricorda, noi impostammo l'operazione, due stadi, due squadre cedendo alla Juventus il delle Alpi che pagò e poi fece la ristrutturazione e al Torino del povero Ciminelli deceduto l'Olimpico, quello che allora era il comunale. Poi Ciminelli avviò la trasformazione del comunale perché doveva essere il luogo dove si inaugurano le Olimpiadi, succede che Ciminelli, la sua azienda fallisce e quindi tutto questo di fatto blocca il lavoro. Allora se il comune non si fosse assunto la responsabilità e se l'impresa che costruiva, Fratelli Mazzi di Verona, non avessero anche loro assunto una quota di rischio, avessero semplicemente come si fa in quei casi, bloccato tutto, interrotto i lavori in attesa che finisse il fallimento. Noi le Olimpiadi le inauguravamo se andava bene al Parco Ruffini. Ecco allora in quel caso lì invece si è assunto la responsabilità, il sottoscritto, l'ingegner Quirico, l'aggiunta di dire all'azienda di andare avanti, di andare avanti che siamo noi che rispondiamo e noi di essersi presi il rischio perché se in quel periodo succedeva qualcosa il rischio anche penale ricadeva su di noi, però era per raggiungere l'obiettivo come si fa nel privato perché non abbiamo violato la legge ma ci siamo assunti la responsabilità di operare laddove la legge ci avrebbe detto non ci diceva niente e questo è stato uno delle… Che si sarà presentato per diverse importanti. Forse l'esempio più significativo insomma di come poi nella macchina a volte bisogna assumere dei rischi, bisogna… perché se no le cose… assumersi la responsabilità del ruolo pubblico che hai, che non è solo quello di osservare in modo, ripeto, pedisse con le procedure perché questo è un paese… Rimare nelle regole ma con una modalità più… Stare nelle regole ma assumendosi la responsabilità in qualche caso di fare ciò che le regole non… su cui non dicono nulla, perché se no questo è un paese che muore soffocato dalle regole, dalle procedure, dalla burocrazia. Quindi è la stessa regola che applicherebbe per l'Expo visto che ci sarà una forte collaborazione sull'Expo naturalmente è la responsabilità diretta di altri e giustamente… Però noi gestiremo tante attività sull'Expo. Mi dicono io… mi dicono perché sai io fino adesso facevo altro… Sì il Comune è molto attivo, il Comune intende la Regione anche… Ecco mi dicono invece che non ci sia una grande progettazione da parte della Regione legata all'Expo. Ho sentito più il… Relata Refero, se sbaglio chiedo Venia prima, mi dicono che salvo un progetto che riguarderebbe il cosiddetto corner del riso, che peraltro non so se è già stato deciso operativamente oppure no, non ci sarebbero altri progetti significativi messi in campo da Regione. Ripeto, lo dico con beneficio di inventaria perché riferisco cose che mi sono state dette ma da più parti. Potrebbe essere coinvolta di più per l'Expo? Da quello che ho capito l'auspicio sarebbe che si facesse di più per l'Expo, il problema è che ormai l'Expo è domani mattina. L'Expo è domani, certo. Allora, con Sergio Chiamparino stavamo parlando delle possibili attività che si stanno mettendo in piedi, che la Regione sta mettendo in piedi per il 2015, dicevamo non sono tantissime, però mentre il Comune di Torino si sta concentrando su una serie di attività che riguardano di più l'ambito turistico e l'ambito degli eventi culturali, forse la Regione potrebbe essere richiamata su tematiche, adesso ne parlavamo anche fuori onda, su tematiche che invece sono quelle specifiche su cui è concentrato il fuoco di Expo, cioè l'ambiente, la sicurezza alimentare, tematiche che in questo caso sarebbe coinvolta, sarebbe chiamata a collaborare un istituto come l'Istituto Zooprofilattico che da sempre si occupa di questo sul territorio. È così? Sì, fondamentale è certo l'aspetto del turismo perché arriveranno tra i 22 e i 25 milioni di persone, quindi è chiaro che noi possiamo come territorio attrarre tantissimo, però una cosa così, da cui arrivano 140 paesi, su un tema su cui il Piemonte è fortissimo, pochi chilometri da noi è veramente un'opportunità da non perdere. Vengono a imparare come siamo primi, proprio come lo siamo, nella sicurezza, nella qualità, nella sospettibilità dell'alimento, perché tutti vogliono mangiare piemontese nel mondo e vogliono mangiare anche tutti sicuro. Infatti uno dei temi dell'Expo è proprio trasmettere ai paesi in sviluppo, in via di sviluppo, anche le competenze in termini di qualità, di sostenibilità e di sicurezza alimentare. Ci diciamo sempre, ed è vero, che siamo una regione tra le più sicure, se non la più sicura d'Europa, in tema di sicurezza alimentare, quindi io credo che dobbiamo cogliere l'opportunità di comunicare dei modelli, di comunicare dei processi, più che un alimento solo che sia il riso da vendere ai cinesi, visto che poi saranno in gran parte i cinesi che arrivano. Più che un prodotto è fondamentale riuscire a trasmettere un modo di garantire la sicurezza alimentare che è tipica del Piemonte. Abbiamo un tesoro enorme e dobbiamo riuscire a cogliere questa occasione. Quello che adesso i cittadini chiedono, anche perché sono un po' più consapevoli, è stata fatta più attività di comunicazione, devo dire anche da parte vostra, ma in generale questo anche a livello europeo. Adesso i cittadini chiedono maggiore sicurezza nei processi, per esempio, e anche nei passaggi. I cibi ormai provengono da tutto il mondo, vengono esportati in tutto il mondo, quindi devono subire una serie di controlli, perché spesso pensiamo al prodotto vicinissimo, però in realtà il prodotto a volte invece subisce tantissimi processi. Qualche volta ne abbiamo parlato, processi di conservazione, processi di congelamento. Ecco, lì abbiamo toccato temi che riguardano le frodi, che riguardano le alterazioni, abbiamo visto le differenze. Questa attività potrebbe essere intensificata o organizzata magari in maniera più strutturata? Abbiamo prodotti locali che sono straordinari e che vanno valorizzati, vanno maggiormente comunicati, vengono tutti i prodotti alimentari tipici, pensiamo alla varietà di formaggi, di carne, abbiamo un'infinità di DOP e GP straordinari. Queste vanno più comunicati anche ai consumatori stranieri, per quello che è importantissimo Expo, perché bisogna anche educare i consumatori stranieri, perché insomma quello che viene venduto poi come tipo italiano che non lo è, insomma sappiamo il danno economico che fa. Quindi si tratta di comunicare il nostro prodotto tipico, ma anche di garantire una comunicazione sulla grossa produzione, perché non possiamo vivere solo del piccolo prodotto di nicchia, prodotto qui, ma mangiamo tutti alimenti di grande produzione. Una delle cose di cui ci siamo occupati è che Torino è stata a leader, è stata insomma il controllo delle famose lasagne a base di cavallo e la lasagna faceva, fa un'odissea in questo caso, prima di arrivare sui supermercati, fa un'odissea veramente attraverso diversi paesi europei, cavalli rumeni congelati poi in Olanda, preparati poi in Francia, venduti in Inghilterra, cioè cosa ci rendiamo conto è che ormai la catena alimentare lunghissima. Però siamo in grado assolutamente di controllare ogni passaggio, ecco questo va comunque garantito al di là del prodotto locale. Senta, a proposito di questo, giustamente anche Sergio Chiamparino parlava dei grandi temi dell'Expo, uno dei temi di cui si continua a dibattere, su cui continua la ricerca, ma anche le diverse scuole di pensiero sono gli OGM, gli organismi geneticamente modificati. Vogliamo guardare un servizio fatto all'interno dell'istituto con la biologa che adesso ci rappresenta un po' quello che voi, insomma in sintesi, qual è il vostro lavoro sugli OGM? Sentiamo. L'attività di ricerca di organismi geneticamente modificati nel nostro istituto è cominciata alla fine degli anni 90, 98-99, quando siamo stati chiamati dal Ministero della Sanità per costituire con tutti gli istituti zooprofilattici una rete per far fronte all'emergenza OGM che si affacciavano nel mondo dell'alimentazione animale e umana in quegli anni. La nostra attività quindi è rivolta alla tutela del consumatore per quanto riguarda l'adesione alla normativa comunitaria prevista per l'etichettatura e per la presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti e nei mangimi. Nell'anno passato, nel 2013, abbiamo analizzato oltre 200 campioni di cui più della metà riguardavano alimenti destinati all'uomo e di questi la maggior parte dei campioni sono stati infatti relativamente al problema del riso geneticamente modificato che si è affacciato alla fine del 2011 come problema emergente per quanto riguarda l'importazione di riso cinese. In particolare c'è una decisione della Comunità Europea che impone il controllo di tutte le derrate che vengono introdotte nella Comunità Europea attraverso i punti di importazione. Nel nostro territorio il punto di importazione più importante anche a livello nazionale è il porto di Genova attraverso il quale l'80% delle importazioni di riso cinese entrano in Comunità Europea. Bene, allora grazie. Io voglio ringraziare Maria Lagoria che, chiedo perdono, prima non ho presentato. È la biologa che opera presso l'Istituto Zoprofilattico e che si occupa di questa tematica che dicevamo è molto importante perché poi tocca tutto il settore agroalimentare quindi un settore, anzi ne parlavamo anche con Coldiretti nazionale qualche puntata fa, un settore di grandissima sensibilità. Ecco, dovendo immaginare il rapporto con il territorio, ci sarà un passaggio. Allora lei era sindaco ed è stato anche presidente del Lanci come l'attuale sindaco di Torino, Fassino, quindi c'era un rapporto con la cittadinanza, con le istituzioni, con gli operatori, ma anche con tutti i sindaci della città, del paese. Qui cambierà tipo di rapporto? Cioè vorrà dire rapportarsi con tutto il territorio, tutte le province, tutti i comuni delle varie province. Cambierà? Adesso ci riferivamo per esempio al settore agroalimentare. Che tipo di rapporto sarà? L'hai immaginato? Come potrebbe essere? Guarda, io quello che mi sono immaginato sono due cose, poi voglio fare una battuta sul tema di prima perché la regione, ma non la regione Piemonte solo, tutte le regioni, secondo me in questi 40 anni di vita, che sono nate nel 70, quindi un po' più di 40 anni, sono diventati molto spesso una sorta di super comuni, un po' ipertrofici, ipergestionali. Cioè bisogna, quindi, bisogna riportarli alle loro, e questo spesso è anche origine poi di sprechi, quante sono le società partecipate della regione Piemonte, per fare solo un esempio. Non ho una cifra, mi pare, si avvicinino al centinaio. Non ho una cifra neanch'io. Ecco, ma secondo me, temo di parlare per difetto, in ogni caso sono sicuro che dimezzandole si ottengono gli stessi risultati, così, proprio… Così, facendo una stima… Una stima, proprio così, nasometricamente le dico, sono sicuro che se le si dimezzassero… Vagamente erenziano, ma è giusto, è giusto, sì. Qualunque se sia, dimezzandole, si otterrebbero gli stessi risultati, forse anche meglio, perché l'ipertrofia gestionale non si addice alle regioni, le regioni sono state fatte per fare programmazione e, diciamo, legislazione conseguente alla programmazione, quindi poche materie, qui c'è anche il tema, probabilmente, di restituire la competenza piena o allo Stato centrale o alla regione, superando quella zona grigia delle cosiddette materie concorrenti che sono spesso motivo di ulteriore burocratizzazione, incertezze decisionali e su quelle materie di competenza, per poche che siano, poter fare esclusivamente, ripeto, legiferare e programmazione. Quindi la sanità, la gestione la fanno le ASL, che sono le aziende sanitarie, la regione fa i piani, quindi controlla l'attuazione e indirizza le risorse secondo gli indirizzi di piano, ma poi la gestione la fanno loro e così in tutte le altre materie, cioè la cultura si fanno dei fondi e poi concorrono attraverso i progetti comuni che poi gestiscono loro e così via. Quindi salvo poche istituzioni di portata davvero regionale o addirittura nazionale come ci sono nel Piemonte, sul resto io credo che la regione debba astenersi dal fare interventi di gestione diretta. Le dicevo, io avrei un obiettivo che riguarda molto l'agroalimentare, gliela dico così televisivamente. Sì, a me fa molto piacere. Cioè riuscire a far vincere il Piemonte contro la Borgogna, dal punto di vista della qualità enogastronomica e di conseguenza anche della capacità di produrre valore aggiunto e occupazione nel settore, nella filiera agroalimentare, perché secondo me il Piemonte da nessun punto di vista, né della qualità dei vini, né della qualità dei formaggi, né della qualità degli altri cibi, né della qualità ambientale, anzi, è seconda quella importantissima regione della Francia. Io, dato che ogni tanto ho occasione di passarci, perché vado a volte in macchina a Bruxelles a trovare il figlio, cioè Bon non è più bella, anzi è più brutta di Alba e Cuneo. Ma è una battaglia che qualche volta si è tentata o l'abbiamo vinta mai? Non so se si è tentata. Adesso glielo ho detto a televisivamente perché poi non voglio fare la guerra alla Francia. In grande sintesi però, capito? Perché farei ridere. Però, secondo me noi abbiamo tutti i numeri, mi riferisco a quello che diceva Maria Caramelli, cioè noi abbiamo tutti i numeri della qualità enogastronomica ma anche del paesaggio e abbiamo una potenzialità enormemente superiore a loro. Il problema è che loro sono partiti molto prima e quindi bisogna recuperare un gap temporale che non si colma in due minuti. Ma diciamo, dato che sognare e darsi degli obiettivi sfidanti non costa niente, io mi do quello. Qui torna la sfida, come il suo libro scritto qualche anno fa, che abbiamo dedicato alla regione Piemonte che sarà, che verrà, perché la regione sta andando al voto come sapete e da ieri sera abbiamo cercato di immaginare quale sarà lo scenario politico in un momento come questo, così difficile per il nostro territorio ma per tutto il paese. Abbiamo con i nostri ospiti cominciato a immaginare qualche scenario che riguarda la sanità, tanti ambiti che possono riguardare il nostro territorio, ma ci siamo concentrati in modo particolare sulle tematiche che riguardano l'ambiente, la sicurezza alimentare, la filiera agroalimentare coinvolgendo una e delle eccellenze del nostro territorio che da più di cento anni opera con grande attenzione e con grandissimi risultati a livello internazionale proprio in questo campo. Allora riprendiamo la nostra chiacchierata da ieri sera, dicevo con i nostri ospiti, uno è il candidato, il nuovo candidato prescelto dal centro-sinistra Sergio Chiamparino che ringrazio per essere qua, ieri sera ricordavamo è stato il nostro sindaco del territorio, è stato il sindaco uno tra i sindaci più amati in Italia e insieme a lui Maria Caramelli, direttrice dell'istituto zooprofilattico per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Allora torniamo in studio e riprendiamo, dicevo, la chiacchierata che avevamo iniziato ieri sera e che si era concentrata in modo particolare sulle tematiche che riguardano l'ambiente, la sicurezza alimentare, tematiche che sono poi quelle che interesseranno, che più saranno trattate dall'Expo che si sta avvicinando, evento che si svolgerà a Milano ma che ci coinvolgerà sicuramente, anzi sta già facendo partire la macchina per esempio all'interno del Comune di Torino. In qualche modo potrebbe impegnare anche la Regione e su queste tematiche, ma soprattutto come saranno trattate queste tematiche in una ipotetica futura Regione. Allora, eravamo arrivati ieri sera a parlare, avevamo ipotizzato tutto lo scenario della montagna, nel senso esistono delle problematiche a livello locale che potrebbero essere affrontate, in che modo? Io ritengo che la montagna, ovviamente il Piemonte si chiama Piemonte per ragioni ovvie, perché sta ai piedi del monte e la montagna deve cessare, ha già cessato in parte, ma solo in parte di essere un problema e diventare un'opportunità. Allora, naturalmente la prima cosa che viene in mente sono le montagne olimpiche, cioè i grandi impianti, i grandi comprensori turistici, turistici, con cui forse, credo, con un po' più di promozione, un po' più di organizzazione della promozione, dell'accoglienza, possono competere con i maggiori comprensori turistici montani a livello mondiale, credo, perché stiamo parlando dell'eccellenza assoluta in questo campo, come qualità delle piste, come possibilità di accoglienza, come vicinanza a sistemi di trasporto rapidi, quali gli aeroporti, i treni veloci, quindi siamo da questo punto di vista, abbiamo… I trasporti che possono essere anche migliorati in qualche modo? Possono essere migliorati, ripeto, c'è qualcosa da migliorare probabilmente nell'organizzazione delle attività sul territorio integrative di quella che è dello sci o delle altre attività che si fanno in qualche modo, però stiamo parlando di perfezionamenti, qui siamo già a livello di, diciamo, comprensori che sono competitivi a livello globale, tant'è che le settimane bianche, insomma, noi vediamo, basta andare a Casella e i charter arrivano dalla Russia, arrivano dalla Svezia, arrivano dall'Inghilterra, poi però ci sono le altre montagne che in parte da sole, spesso con fatica, si stanno riconvertendo a cosa? Ha luoghi dove riscoprire un po' la comunità di territorio e farla diventare una risorsa per la crescita, io ho presente la Val Maira, che è la valle più lunga del Cuneese, cioè dove, grazie ad alcuni uomini amministratori locali che si sono ingegnati, hanno inventato i percorsi, hanno reinventato le tradizioni occittane, hanno reinventato e riscoperto attività agrosilvopastorali che si facevano lì e li hanno modernizzate rendendo il cibo adatto ai tempi nostri, hanno riscoperto delle aree in abbandono, aprendo dei punti di ristoro, aprendo dei punti di soggiorno, finalizzate a chi ama un tipo di montagna diverso da quello si fa a Sestriero o a Sestriero o in altri posti simili, e difatti se uno va in Val Maira tra un mese, due mesi, fino a tutto ottobre è pieno di olandesi, di inglesi, di tedeschi, di svizzeri che vengono a fare trekking, che è una cosa, magari un po' per pensionati, e che però è una popolazione per fortuna crescente, per vuol dire che la qualità della vita e l'età media si allunga, comincio a essere direttamente interessato al problema, ed è una popolazione che ha anche mediamente una capacità di spesa. In Val Maira sono ritornati molti giovani, faccio questo esempio senza enfatizzare nulla, dico, se si dotano queste zone di un po' di infrastrutture, soprattutto immateriali, banda larga, che consentano di essere in rete, come si dice adesso, io credo che quelle comunità possano diventare tal comunità di innovazione sociale, legata soprattutto all'agricoltura, alla pastorizia, ma anche al turismo, all'accoglienza. Offrire strumenti anche a queste nuove generazioni. Io credo che questa sia la strada che può consentire, poi ci sono le aree che hanno una vocazione naturalistica molto spiccata, insomma credo che questa sia l'altra chiave per la produzione energetica, perché molte di queste zone utilizzando il disboscamento in modo razionale possono autoalimentarsi dal punto di vista energetico, l'UNCEM, che è l'Unità dei Comuni Montani, ha prodotto dei progetti interessanti che si stanno anche sperimentando, quindi voglio dire, se tutto un tema che se volete è tenuto insieme da un'asse che va dalla tutela del territorio, passando per la produzione agricola e la trasformazione un'alimentare che arriva fino al turismo, che secondo me è la chiave di volta su cui il Piemonte può scommettere molto di più di quanto ha fatto fino a ora. È collegata, sicuramente è collegata. Ecco, lo chiede dal direttore dell'Istituto Zoprofilattico. In questo senso, quindi, in questa filiera, che è molto lunga, potrebbero rientrare anche tutti i piccoli produttori, gli allevatori, giusto? Potrebbero essere seguiti un pochino di più anche loro o potrebbero essere offerti più strumenti? Assolutamente, potrebbero anzi avere un esploat con una maggiore attenzione alla produzione montana, perché quello che è un prodotto di nicchia amato da tutto il mondo, perché le persone impazziscono veramente per i nostri prodotti alimentari che sono fatti in montagna, soprattutto da imprese, neanche micro, imprese magari familiari, una, due, tre persone. Ecco, queste imprese vanno aiutate, vanno aiutate perché vanno aiutate nella semplificazione, innanzitutto perché il peso delle normative, dettate chiaramente da grandi paesi con grandi imprese, è troppo gravoso per queste piccolissime realtà. Che vengono schiacciate, ovviamente. Vengono schiacciate al tempo stesso, però sono una risorsa magnifica per l'immagine del Piemonte, anche per la nostra sicurezza alimentare, perché sono prodotti che fanno una piccolissima strada rispetto alle lunghe strade che fanno i prodotti di grande. Aiutarli sarebbe un aiuto anche nel vostro lavoro? Aiutarli, noi facciamo dei progetti di ricerca che per aiutare nella semplificazione della risposta alle esigenze. Magari anche su certe normative apparentemente di tutela della sicurezza alimentare, in certi casi forse si possono semplificare. Certo, perché sono pensati da altri, cioè da paesi del nord Europa per altri. Sono pensati da chi ha le produzioni estensive, che fa il formaggio. Sicuramente non perché è una piccola impresa. Per cui, insomma. Quindi togliere le briglie, capisco benissimo. Allora, diamo spazio alla pubblicità due minuti, poi torniamo qua. Pubblicità. Buonasera, bentornati ad una nuova puntata di Antropos. Antropos è una trasmissione televisiva che da oltre dieci anni tratta tematiche ambientali, sociali e mediche. Antropos dà spazio agli ospiti in un serrato dibattito giornalistico. La trasmissione prevede servizi di approfondimento ed una sintesi finale che focalizza i temi trattati. Guardaci su Quarta Rete TV e sui canali web www.youtube.com. Slash ambientiamoci Antropos. L'informazione a portata di tutti. Bene, ultima parte della trasmissione che abbiamo dedicato alla nuova regione. Stavamo parlando con Sergio Chiamperino e Maria Caramelli. Torniamo a parlare di valli. Dunque, parlando di valli, non si può non toccare all'argomento TAV. In questo momento c'è stata anche una presa di posizione da parte delle CGL sul territorio, che in questo senso non è più schierata. Come si potrebbe affrontare questo argomento un po' spinoso? Mi sembra già affrontato, nel senso che c'è una maggioranza in Europa, in Italia e in Francia che ha deciso che quel collegamento si fa. D'altronde non si capirebbe perché l'altra velocità vada bene da Torino a Milano, da Milano a Roma, a Napoli, da Napoli a Salerno, da Napoli a Bari e non da Torino a Lyon. Cioè proprio, se qualcuno mi spiega il perché, a cominciare da quelli che sono contro la TAV e poi salgono sull'alta velocità a Torino per andare a Roma, tanto per non fare nomi. Sì, poi è la contraddizione che viene. Detto questo, quindi è una decisione già presa. Il problema oggi è come si accompagna la realizzazione. Come si accompagna la realizzazione, certo, perché non è semplice. La Val di Susa è una valle, la bassa Val di Susa, perché l'altra Val di Susa, ne abbiamo parlata prima, è la valle dei grandi comprensori turistici, sciistici, di cui parlavamo prima. La bassa valle è una valle che un tempo era industriale, le industrie purtroppo, o per fortuna, non lo so, comunque come in molte altre parti hanno smobilitato quasi tutte, resta qualcosa, l'Alzi Mutadavigliana, di grandi industrie, alcune altre attività, è una valle che ha bisogno in qualche modo di essere rivitalizzata, è una parte di territorio che ha bisogno di essere rivitalizzato, che non può solo essere un luogo di pendolari che abitano per venire a lavorare a Torino. E quindi da questo punto di vista gli investimenti cosiddetti compensativi, poi non piace il termine, ma io non ne trovo un altro, gli investimenti cosiddetti compensativi in parte per il recupero ambientale, il rifacimento del territorio, che diciamo non è dei migliori, quello della bassa Val di Susa, c'è quell'impalcato dell'autostrada che non è che sia una delle sette meraviglie del mondo. E dall'altra parte attività che possono sorgere per iniziative locali opportunamente stimolate, legate appunto ai temi di cui dicevamo prima, alla rivalorizzazione del patrimonio agricolo, stanno reimpiantando i vignetti in alcune parti di quella valle. Tutto questo secondo me sono i veri temi, sono le vere questioni su cui si vuole concentrare chi non fa della battaglia contro la TAV un vessillo ideologico da sventolare, ma chi invece ha davvero a cuore gli interessi del territorio della bassa Val di Susa. Quindi per tornare anche alla tutela dell'ambiente, si può dire che la TAV non è un progetto che comporti ancora inquinamento? Vorrei che ci fosse uno degli amici no TAV, amici per non dire, che mi spiegasse come mai non si sono sentiti in dovere di andare a fare un giorno di protesta a Bardonecchia quando la Città ha fatto il raddoppio del traforo del Frejus, perché forse nessuno sa che la Città ha fatto giustamente una canna lunga 12 km di sicurezza per avere la possibilità che in caso di incidenti, che poi diventerà la seconda canna del Frejus, secondo me. Allora, la montagna è la stessa, i minerali che si trovano sono gli stessi, mi si spiega perché quella non inquina, la TAV inquina e quella non inquina? Cioè, uno gli verrebbe persino qualche sospetto brutto, però non ce li facciamo venire i sospetti. Eh no, infatti dovremmo avere quello contro parte che non abbiamo. I Pizzeri hanno fatto il Gottardo 57 km, le Alpi sono sempre quelle, l'asbesto c'è al Gottardo come può esserci. Voglio dire, sono delle agitazioni. Beh, poi sono stati presi anche i provvedimenti mano a mano che sono stati trovati sostanze. Sono stati cambiati anche dei percorsi, sono stati tenuti conto di osservazioni, stiamo parlando di un progetto che è il terzo o quarto progetto che viene cambiato in quella parte della valle, quindi diciamo la verità, insomma, ormai la lotta a no TAV è un pretesto per fare una battaglia politica da parte di alcuni gruppi che ritengono di poter utilizzare questo per la loro affermazione politica di partito, di gruppo e individuale. Il problema vero per chi ha a cuore quella parte di territorio, quindi anche sindaci che magari sono no TAV perché non possono non esserlo, tanto per essere chiari, è quello di muoversi sul terreno che indicavo prima, cioè investimenti compensativi come farli diventare una risorsa per rivitalizzare economicamente e occupazionalmente la bassa valle di su. Ragionare in maniera costruttiva. Potremmo fare una bella puntata di confronto su questo, se l'avesse voglia con il no TAV, perché l'abbiamo chiamato in causa senza averli invitati. Non c'è qualcuno che non urli soltanto volentieri. Mi piacerebbe molto, magari se lei... Magari lei che è così brava ne trova uno che ragioni come stiamo facendo adesso senza solo insultare, io volentieri. Io ci spero sempre, anzi l'impostazione che cerco di dare è sempre quella del confronto, però sarebbe anche giusto, l'abbiamo chiamato in causa in questo momento, quindi mi piacerebbe molto farlo, anzi lo faremo se lei accetta molto volentieri. Però, appunto, continuando a parlare della tutela dell'ambiente, allora mi torna in mente tutto quello che poi l'istituto profilattico fa e si occupa proprio in materia di tutela ambientale, perché ricordiamoci che, per esempio, dai cambiamenti climatici dovuti anche all'alterazione dell'ambiente, poi scaturiscono tantissime epidemie che sono quelle su cui voi lavorate. Allora, una delle domande che più spesso arriva in redazione è qual è il sistema di controlli che parte, che ci può garantire la salute, la sicurezza, la tutela quando parte un'epidemia? Voi siete iperconcentrati. Sì, le epidemie, le emergenze sono un po' nostro pane perché ce n'è una ogni momento, per tanti motivi la globalizzazione, sicuramente i spostamenti delle persone, degli animali, delle cose, è sempre più tumultuoso. Gli animali si muovono cinque volte tanto quanto si muovono le persone che già, con i flussi migratori, già si spostano tantissimo. Lo spostamento rapido delle cose significa spostamento rapido di materie prime, quindi per alimenti, per mangimi, quindi siamo esposti negli ultimi anni proprio a un'accelerazione dei rischi legati alle malattie trasmesse da alimenti, legate alle malattie degli animali che poi sono la gran parte delle malattie emergenti. Uno studio ha evidenziato come la maggioranza delle malattie emergenti dell'uomo siano legate agli animali, o al contatto diretto con gli animali, influenza aviaria, o all'assunzione di alimenti di origine animale. Ci sono stati 50.000 persone ammalate l'anno scorso in Europa. Quindi è proprio un problema globale che bisogna affrontare in modo, e lo stiamo affrontando in modo coordinato con l'Europa, che sta cercando di darsi un linguaggio comune a questa lotta. Il vostro è un confronto continuamente internazionale. Continuamente. I vostri studi sono tutti pubblicati. Sì, ma poi soprattutto il controllo deve essere fatto in accordo con gli altri paesi, perché ormai non c'è confine. Non c'è confine alle malattie infettive, non c'è confine alla catena alimentare, come abbiamo visto. Chiaramente le malattie non si fermano al confine, quindi è inevitabile agire in modo organizzato. Sicuramente l'ambiente conta tantissimo, perché più l'ambiente è malato, più il cibo che ne deriva è pericoloso. Quello che è successo con la terra dei fuochi è un esempio, ci dice chiaramente che non possiamo continuare a non occuparci dell'ambiente, perché l'ambiente poi ci torna indietro attraverso il cibo, attraverso l'acqua contaminata. Poi una volta che è fatto il disastro è veramente difficile. Ma poi diventa, adesso lo dico da un punto di vista ovviamente di allarme sociali, ma anche di costi sociali. Immaginiamo quello che poi comporta dover affrontare le conseguenze di questi problemi. Allora, però tornando, l'occasione è ghiotta anche per fare una piccola valutazione politica, perché stiamo parlando di una regione che sarà immaginata, però le elezioni poi vanno vinte per tutti, questo per tutti i candidati, quindi tutti corrono, tutti cercheranno di vincere, Allora io chiedo a Sergio Chiamparino un paio di aspetti dal punto di vista politico. L'attuale governo Renzi, che poi lei sostiene, è un renziano fin dall'inizio, ha un accordo con il centrodestra, questo varrà anche per il nostro territorio? Guardi, il governo Renzi nasce nella scia di un governo di emergenza, cosiddetto definito tecnico di emergenza, per far fronte alla situazione che si era creata dopo il voto. Qui in Piemonte andiamo a votare, ci saranno delle coalizioni che si misurano, decideranno i cittadini, se i cittadini daranno la fiducia a me e al centro-sinistra, governerà il sottoscritto, e con una squadra di centro-sinistra naturalmente. Sente, invece è una notizia di questi giorni, insomma appunto ne parlavamo adesso con la TAV, c'è stata una certa scissione, un disaccordo sulla TAV con la CGL dal punto di vista territoriale. In questo momento a livello nazionale, tra i premier e la CGL in particolare, c'è stata un po' di frattura, c'è stato un po' di attrito. Come immagina questo rapporto con il sindacato, anche dal punto di vista territoriale, eventualmente nel futuro? Guardi, c'è un terreno sul quale, direi anche per formazione professionale, sono sempre stato molto attento al rapporto con i sindacati, con le organizzazioni dei lavoratori, naturalmente chi governa deve guardare a tutti i piemontesi, qualunque cosa facciano, che siano imprenditori, che siano pensionati, che siano disoccupati, e il sindacato ovviamente rappresenta i suoi iscritti, quindi che ci possano essere delle valutazioni diverse. Certo, stride un po' che un sindacato come la CGL, che mette giustamente il lavoro al primo posto, poi dica che non è prioritaria l'unica grande opera che si sta facendo in questo momento, che sta dando lavoro. Cioè questo io lo devo ancora... Le sembra uno simoro, certo. Più che uno simoro, mi sembra proprio una contraddizione, nel senso che non la capisco, ma poi dato che presto vedrò i loro vertici, spero me la spieghino. Approfitto, quindi io dico rapporto dialettico, per dire in due parole, rapporto dialettico, non c'è nessuna immedesimazione, però è certo che la parte per la quale io voglio governare ha prima di tutto al centro le persone più poveri, disoccupati e i lavoratori. Naturalmente, poi lei prima mi chiedeva, non si ripetono quindi modelli nazionali, a meno che non si creino anche in Piemonte situazioni che richiedono valutazione di emergenza. Se è casuale... Una situazione ordinaria, chi prende più voti e ha le condizioni per governare, governa. Se si creano situazioni di emergenza, si valuteranno. Certo. Senta, tornando sempre a Renzi, che in questo momento è una figura prevaricante nel nostro paese, nel bene e nel male, sta facendo delle cose, viene molto discusso, è molto bravo, non lo è, ha fatto un percorso di un certo tipo, che lei avrà condiviso sicuramente in larghissima parte. Mi chiedo, ha condiviso tutti i passaggi? Io ho avuto modo di dire pubblicamente che, diciamo, l'ultimo passaggio, cioè quello che ha un po' contraddetto, quello che Renzi aveva sul tempo affermato, cioè mai al governo senza le elezioni, io avrei cercato di fare più gioco di squadra con Letta, però, sa, io parlo qui da Torino, fuori da quel contesto, sì, e soprattutto senza tutti gli elementi che è sicuramente da valutare, che aveva Renzi, che aveva Letta, che avevano tutti gli altri, quindi se Renzi, io dico così, se Renzi è stato, ha contraddetto quello che lui stesso aveva detto, si vede che ne aveva i motivi, cioè, magari c'è stata qualche sollecitazione, probabilmente non aveva più le condizioni, e ha ritenuto che non ci fossero più le condizioni per andare avanti così. Benissimo. Allora, in realtà io avrevo ancora quattro pagine di domande per tutte e due, ma il tempo a disposizione è finito. Allora, una promessa, dobbiamo tornare qui. Qualunque cosa accada, comunque vado, ovviamente facciamo gli un po' di...